Buongiorno a tutti, sono Alan WS2 e oggi vi voglio far vedere questo bug che si trova sull'Area 51. Bisogna andare per forza con il freeway, con tutte le altre moto non funziona questo bug. Potete mettere bene allineati sulla grata, dove entrate nella missione. Si, si mette il triangolo per scendere e vi trovate qua dentro, dove sta il minigun che non ci ha preso, potete vedere qua. Molto bello. Potete esplorare liberamente tutta l'Area 51. Potete vedere tutte queste creazioni che di solito non si possono vedere, tanto con i bug si può entrare qua dentro. Una zona molto bella. Dove c'è anche la mappa di Sant'Andrea. Vista dall'alto però. Qua c'è il cancello, dove dall'esterno si può accedere, solo che con delle mod, oppure liberamente però durante la missione. Ecco qua la mappa.